Ciao a tutti che suotti, benvenuti in questo nuovissimo video Non sono con un treppiede o con la mia solita videocamera che uso, che ha una qualità eccezionale Sono con il mio iPhone Oggi siamo a Bardonecchia Tudor ieri si è svegliato che voleva venire a sciare, ha fatto un sondaggio Siamo andati a sciare oggi, siamo io, Tudor e Alberto Che ci ha accompagnato qui gentilmente in macchina Io ho sciato tutta la mattina, devo dire che è andata bene Considerata anche la questione che questa è la prima volta che io scio veramente Se sono storto ragazzi è perché sono appoggiato per terra completamente Come se non ci fosse un domani, sono stanco morto È da stamattina alle nove che siamo sulle piste Ora sono le, te lo dico subito, non me lo fa vedere Saranno le due Facendo tutte le piste a spazzaneve perché ancora non sono capace Nel senso, ho fatto delle piste blu Ho fatto un pezzo di pista rossa di quella delle Olimpiadi che c'è qui a Bardonecchia E non sono caduto incredibilmente, non sono caduto Poi facendo tutto a spazzaneve mi sono stancato tantissimo le gambe Mi hanno portato su, 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 quasi in cima Non in cima perché in cima è pericoloso per uno come me Però tanto su, comunque su piste blu E ho iniziato a cadere perché mi facevano male le gambe Ma detto questo, ora mi sto riposando mentre gli altri stanno ovviamente sciando e divertendosi Ho messo un paio di storie su Instagram e ho pensato Perché spiegare questo tempo utile per dormire? Perché sì, volevo dormire e mi ero appoggiato qui per terra Sarà comodissimo tra l'altro, un po' freddo ma comodo Ho detto registriamo un FAQ Un FAQ così registrato al volo col telefono Spero che vi possa piacere Considerate che tutte queste domande vengono dal mio profilo Instagram The Direct Perché l'ho chiesto su Instagram Quindi saranno anche cose relative a questioni e scenari tipiche delle mie Instastory La prima ad esempio è una domanda interessante e giusta in realtà Perché non indosso mai la maglietta a casa Io vivo in una casa insieme a Stefano e Tudor Ma in casa nostra ci sono dei termosifoni che o li tieni spenti o li tieni accesi L'iscaldamento è gestito dal condominio Quindi o moriamo di freddo o fa caldo In casa nostra fa caldo, lì c'è un bellissimo cagnolino che vorrei tanto salutare Ma mi sa che se ne è andato Decidiamo di avere caldo e quindi molto spesso sto in t-shirt o addirittura senza magliette Ciao cagnolino, non mi caga di striscio Poi a volte anche tornando dalla palestra io torno con la maglietta tutta sudata Perché mi faccio la doccia a casa E dopo la doccia non ho voglia di mettermi roba Che suona strano ma è vero La domanda più popolare è se hai mai cascato oggi in pista Ma l'ho già detto nella intro, l'ho detto anche nelle Instastory Sono cascato sì, ho fatto anche un mezzo volo impegnativo Mi si è incastrato lo sci, mi sono girato, stavo cadendo all'indietro Si è staccato lo sci e andato a sbattere contro il quadricipite sinistro Mi ha fatto un po' male a dire il vero Però dopo neanche due minuti è andato via il dolore È stata una cosa molto temporanea Comunque sì, sono caduto e sono caduto anche tante volte Dopo che mi sono stancato le gambe soprattutto Perché facevo tutto a spazzaneve Non riuscendo ancora a sciare, a sci paralleli Faccio tantissima fatica e sono sempre in tensione Su Instagram ho già messo le foto delle scarpe che ci hanno regalato Quando sono andati all'evento con Ronaldo il Fenomeno Dovrebbe già essere uscito il video sul canale Se non l'avete visto andatelo a guardare Molto divertente tra l'altro perché mi hanno messo in un campo da calcio a fare cose E io di calcio ne capisco davvero zero Comunque quello è un regalo che ci ha fatto Nike Ci ha personalizzato le nuove scarpe di Ronaldo Però non verranno commercializzate Ci sarà mai una collaborazione Nike per Mates? Oddio io lo spero ragazzi ovviamente Sarebbe una cosa fighissima Però non lo so, magari in futuro Qual è stato il mio primo telefono cellulare? Allora l'ho avuto tipo alle medie Ero alle medie, seconda media, forse terza media All'epoca i telefoni erano una cosa ancora molto diciamo blanda Si usavano più per gli SMS che per internet Ora ci sono i smartphone le cose Quando ero piccolo io, ho 21 anni Quindi ti parlo di 8, 9, 10 anni fa I telefoni servivano solo per mandare SMS Gli MMS costavano troppo E appena aprivi internet ti saliva il panico Un attacco di cuore E cercavi di chiudere il più possibile Perché saprei già di aver speso Probabilmente il debito della Cina In credito telefonico Non sto scherzando Mi è scappato il tasto di internet Mi sono quasi messo a piangere Ho detto no avevo 10 euro Saranno finiti tutti Eh sì Comunque il mio primo telefono Era un Nokia Non era un Nokia 3310 Perché non sono così vecchio Però era un Nokia simile Un po' più moderno C'era Snake mi ricordo Se trovo una foto la metto da qualche parte Un'altra domanda molto popolare Che mi fate su Instagram Riguarda dei marchi Ora io su Instagram metto molte foto In cui indosso magari marchi famose cose E quindi si è creata un po' questa cosa Che sotto i commenti Ma ne dare soprattutto La gente mi chiede Cosa pensi di questa maglietta Di questa marca Di questa fiopera E siamo sfociati anche nei telefoni No ma questa è una domanda secolare E mi hanno chiesto Apple o Samsung Neanche Apple o Android iOS o Android No Apple o Samsung Ah devo dire che io ho avuto entrambi In questo momento ho un iPhone Ma fino al mese scorso avevo un Samsung Che Con cui mi trovavo benissimo L'ho cambiato Per il semplice motivo Che Instagram sul Samsung Funziona davvero male E usando comunque tantissimo Instagram E essendo parte del mio lavoro Ho bisogno che funzioni bene Ed è per questo che ho comprato un iPhone Tra l'altro Se riesco a fare questo video Perché questo telefono È relativamente nuovo Altrimenti la batteria Mi avrebbe salutato da un pezzo Alla fine della storia Però qualsiasi telefono abbiate Già il fatto che avete un telefono E tanta roba Se si connette a internet Potete guardarci video Ancora meglio Ma alla fine del discorso La cosa importante È che vi citroliate bene Voi Scioglilingua Non riesco a parlare con il freddo Anche normalmente Ma con il freddo ancora peggio Continuo le domande Sulle scarpe Nike Mates Ragazzi No Non È stata una persona In relazione a un regalo Ma va bene Hai mai fatto un video Poi ti sei vergognato Di guardarlo E non l'hai mai caricato Allora Vergognato Ormai è difficile Che io mi vergogni Perché siamo a un livello Su YouTube In cui Non ha neanche molto senso Vergognarsi Nel senso Siamo a tutti i livelli Degli intrattenitori Quindi vergognarsi Non va molto bene Guarda Ci sono Ci sono Alberto Andrè che è un ragazzo Un padre Qui di Bardonecchia Che mi stanno salutando Quindi probabilmente Sono venuti a prendermi Comunque Sì Probabilmente anche questo video Lo riguarderò E deciderò di non caricarlo Magari uscirà Però sapete Che un po' Come tutti i video A volte Non è una questione di vergogna È una questione di dire Posso fare di meglio Preso un po' di zuccheri E la prossima domanda È Quando è che rinizi Con la serie principale Beh C'è da dire una cosa Che io pensavo di riniziarla Quando usciva Il prossimo aggiornamento Solo che Non so il preciso Quando uscirà Potenzialmente potrebbe uscire Addirittura Tra tre mesi C'è scritto Secondo trimestre Del 2018 Quindi potrebbe uscire Anche a giugno Per quanto ne so E giugno È lontano Quindi o lo inizierò Prima O Altre idee che mi era venuta Posso iniziare Una serie moddata Non sarà una serie moddata Complicata Non sono aggiornato Su tutte le mod Su tutti i modi Per costruire macchinari E cose varie Dovrò informarmi Sulle varie wiki Che è una cosa Strafattibile E sarebbe anche Molto divertente Mi stava accadendo il telefono Potenzialmente sì Inizierò una serie moddata Non so ancora quando Non so ancora Che mod Che pacchetto di mod Però dovrebbe essere Una cosa interessante Scrivetemi qua sotto Nei commenti Se siete interessati Domanda un po' più personale Se trovassi Una relazione stabile Quindi una ragazza Una fidanzata Mi trasferirei Per stare con lei E quindi abbandonando Stefano e Tudor Oppure no La risposta è Probabilmente no Perché anche se Conoscessi ora La mia futura moglie Ovviamente ci avrebbero Almeno Un paio d'anni Forse anche una cosa di più Prima di dire Andiamo a convivere Che comunque convivere È una cosa molto Impegnativa E maggior parte delle relazioni In una situazione di convivenza Non durano più di uno Due anni Perché molto semplicemente Convivere è complicato Già se io con Stefano E Tudor Abbiamo i nostri problemi Perché ovviamente Anche noi magari litighiamo Ah che cazzo ho lasciato La caffettiera sporca Oppure perché non hai pulito Quello Perché non hai fatto questo Cioè capita È normalissimo Immaginate in una casa In cui c'è una coppia Che cosa può succedere Quindi diciamo che Potenzialmente no Un'altra domanda Sul trasferimento Se vede che non mi volete In Italia Oppure non mi volete A casa con gli altri Hai mai pensato Di trasferirti all'estero Risposta Sì Non recentemente Ma un paio d'anni fa Prima di trasferirmi a Milano Avevo in mente Di trasferirmi anche In un altro paese Stavo valutando L'Inghilterra Stavo valutando Qualche isoletta sperduta Con una buona condizione Internet Perché alla fine Se ci pensate Levato tutto il lavoro extra Che facciamo a Youtube Quindi Tutta l'attività imprenditoriale Tra merchandising Collaborazioni con altre aziende Pubblicità Social face Ora abbiamo fatto il film Tutte cose che abbiamo fatto Perché comunque Siamo a Milano E possiamo parlare Con la gente Fare relazioni Se vivessi Un'isoletta sperduta Delle Hawaii Magari avrei la connessione Riuscirei a fare i video Su Youtube Però non riuscirei a fare Tutto il resto Comunque sì Avevo una mezza idea Di trasferirmi in un paesino In una città Est A caso Bellissima Simpaticissima Perché alla fine Con solo Youtube Per farlo Di cosa hai bisogno Di una telecamera Di una connessione internet Puoi farlo Da qualsiasi parte Ti piace il tuo nome E hai mai pensato Di cambiarlo Che non sapevo Se potesse In realtà O hai mai chiesto A tuoi genitori Perché ti hanno chiamato così Allora mi chiamo Salvatore Mi chiamo Salvatore Perché Diciamo In onore a mio nonno Che era un po' Questa tradizione Di chiamare Il Il proprio figlio In base In base al proprio genitore Quindi Il primo genito Che è mio fratello Giuseppe Si chiama Giuseppe Perché il padre Di mio padre Quindi mio nonno Paterno Si chiama Giuseppe Io mi chiamo Salvatore Perché il padre Di mia madre Si chiama Salvatore Sono il secondo genito Sì Il mio nome Mi piace Soprattutto crescendo Io sono andato a Napoli Ma sono cresciuto in Veneto Ero tipo Nel mio paesino Eravamo in due Che ci chiamavamo Salvatore Due Quindi è un nome particolare E la gente se lo ricorda facilmente Quindi comodo Non ho mai pensato di cambiarlo E pensavo fosse una cosa Che si dice nei film Tipo ora cambio nome Non so Non sapevo se potesse davvero Cambiare nome Non so se si può davvero Poi il nome è una cosa È il primo regalo Che ti fanno Anzi il secondo regalo Che ti fanno i tuoi genitori No Prima ti mettono nel mondo E poi ti danno un nome Quindi è una cosa comunque importante Cioè ti deve piacere il tuo nome Poi se proprio è un nome lungo Eppure ha quattro nomi Ci sono sempre i soprannomi Quindi non è un problema Invece Suri è un nome d'arte Che è nato così negli anni Però Suri mi piace molto Anche Suri Hai altri tatuaggi in programma? La risposta è Mi Nel senso Non li ho in programma Non ho programmato già una sessione Per tatuarmi Però mi è venuto in mente Recentemente In questi giorni Nelle ultime settimane Un paio di tatuaggi Che mi piacerebbe davvero Farmi Due frasi Che diciamo Fanno parte della mia vita Perché mi piace l'idea Di tatuarsi cose Importanti Che hanno un significato Ma che Possono anche Diciamo Tramandare quel significato Senza che tu lo spieghi Perché tipo C'è gente Che fa benissimo Perché ovviamente Sono gusti Che si tatua un Non lo so Un arcobaleno E dice Eh sì E poi ti spiega Mi sono tatuato l'arcobaleno Perché durante questa vacanza È successa questa cosa Quindi ha tutta una storia dietro Bellissimo Però a me piacerebbe avere Un qualcosa Che tu lo vedi E se sai il significato di quella frase Sai perché me lo sono tatuato Ti saresti mai aspettato Questi risultati Mi stendo perché Mi sto stancando un po' A stare seduto così strano La risposta è no Ma è una cosa che un po' Faccio io Nel senso che io Difficilmente mi creo aspettative Vedere la serie Faccio questa cosa perché Voglio che vada così O di solito faccio le cose E poi vedo come vanno E lo so che è un consiglio Un po' strano E per alcuni potrebbe sembrare Anche una cosa stupida Però un consiglio che io vi do È quello di non crearvi aspettative Cioè alla fine Come tutte le cose Quando una persona Fa una scelta Ha bene o male Per semplificarla molto Il 50% Di possibilità Che abbia ragione Oppure torto Quindi Ha davvero senso Preoccuparsi troppo Di quello che succederà Io quando mi sono A fare youtube L'ho fatto perché Avevo voglia di farlo E basta Non pensavo Oddio Voglio raggiungere Questo obiettivo Sport che ho praticato Nella mia vita Beh sport ho fatto Da piccolino basket E basta Questo è stato L'unico sport Attività fisica Sì Però sport Sport a livello Proprio Agonistico Cioè Agonistico Tra virgolette Quindi tornei E robe E' stato il basket Ora sto sciando un po' Però non è che sia Molto capace E quindi Non lo chiamo ancora Sport E' pratica Pratica per poi Potenzialmente Fare cose Non con corsi Egonistici Sicuramente Però Divertirsi almeno Vi lascio con questa Ultima domanda Che mi avete fatto La mia prossima meta Ovvero Il posto in cui mi piacerebbe andare E mi piacerebbe andare A New York Sono stato in America Diverse volte Ma sempre in California Sono stato a San Diego Los Angeles San Francisco Non sono mai uscito Dalla California E per quanto la California Sia in parte bella Mi piacerebbe tantissimo Visitare New York Che è tipo Una delle metropoli più Fighe secondo me Del mondo Appena ho un po' Di tempo libero Per organizzare questo viaggio Magari anche insieme agli altri Se qualcuno vuole venire Potrebbe essere la mia prossima meta A New York ci sono stato Ma ho fatto solamente scalo Per andare a Las Vegas Ah è vero Sono stato fuori dalla California Sono stato in Nevada Però diciamo che Las Vegas Non è proprio New York E New York non è proprio Las Vegas Vabbè sono due cose diverse Comunque ho fatto scuola a New York Per andare a Las Vegas A New York Però non sono mai uscito Dall'aeroporto Quindi Detto questo Ragazzi vi dico che per questo video Un po' a casaccio È tutto Spero comunque che vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare un mi piace Se è piaciuto questo video Scrivetevi al canale Se ancora non lo avete fatto Siamo su Twitter Instagram Facebook Ovunque voi vogliate Mi sa che sta iniziando O a piovere O a nevicare Quindi mi vado a rifugiare Al pub Al ristorante Non so di più giusto cos'è E niente Ciao a turuturo a tutti